Ok ragazzi Sono un po' arrabbiato Con me stesso Perché Mi viene da piacere No Praticamente Il microfono di questa camera Non so perché Non so come mai È stato toccato E praticamente Si vede che Nel trasferimento Della camera all'altra Ho toccato Il pulsantino dietro Questo è un microfono Alimentato dalla camera Quindi non c'è batteria Però c'è un pulsantino In alto a destra Che praticamente Disattiva il microfono E quindi Ho fatto Tutti i video Per stamattina Sono andati Senza audio Praticamente Parlo Senza audio Quindi È Frustrante Ricapitolando tutto Oggi è stata una giornata Tranquilla Questo Jun glun Sta rompendo le scatole Perché comunque Specialmente Jun marina Tutto Due settimane Che oramai Non si vede il sole E Potrebbe essere Una situazione Di Non so Quando non c'è più sole Sulla terra Un po' triste Veramente Uggioso Queste sono le nuvole Sopra Malibu Canyon E praticamente Qua è Tutto così Rimane così Per tutto il giorno E notte Appena passi Il canio di Malibu Normalmente A casa mia C'è il sole Caldo Esiste bene Perciò Non è Vado nel medio Ricapitolando Quello che ho fatto Che non posso usare Non ho potuto usare Perché è senza audio A meno che volete Che parlo Quindi non mi capite Riccola mi ha chiamato Un paio d'ore fa E mi ha detto Walter Mi chiama Babe Walter Babe Babe Mi sono dimenticato Di dire che dobbiamo andare Con il sacramento Anzi Ti va andare al sacramento Questa fine settimana Ancora? Ok Tranquilla Ma veramente Sì perché Mi sono dimenticato Non dimenticato Sono stata invitata Dalla mia nipote Che si Si dice Gradua Graduate Fa una festa Io sono la sua madrigna Quindi Normalmente È bene che Che la madrigna La madrigna Ci sia Andiamo con la Mini Cooper Così facciamo una cosa Tocca a te Fuga Oh bellissimo Sono contento Quindi Andiamo La grande Da Dini Quindi Venerdì sera Partiamo Venerdì mattina No Sabato mattina Quindi saranno Penso le due Luna e due di mattino Partiamo Boom Andiamo a Mini Cooper Facciamo una sparata a Sacramento Stiamo lì tutto sabato E domenica Boom Ritorniamo ancora la sera E saremo qui a casa Martino Un'altra tirata Un'altra Un'altra 700 miglia Ma è bella A me piace guidare Anche se è un po' Nettirata Però va bene Va bene così Quindi questo era Un piccolo Degli altri aggiornamenti E il resto Me lo sono Mi sono dimenticato Quindi Partiamo Iniziamo il video Da qui Dalla fine della giornata Ah ragazzi Siamo in traffico Di Malibu Oh mamma mia Queste nuvole Che palle ragazzi Vai Adesso Ciao Questo è quello Invece che c'è Appena passi Le colline di Malibu Quindi Cielo blu Caldo E vedi Queste nuvolazze Azze Azzo Azzo Queste nuvolazze Che Praticamente Nette Stanno Al di là Della collina Dove c'è L'oceano Incredibile E c'è il sole E vedi Sto già meglio Sorrido Sono più tranquillo E' bestiale La natura qua Incredibile Poi Normalmente Dura un paio di settimane Speriamo che Questa sia l'ultima settimana Poi Cominci a aprirsi Un po' Anche sull'oceano Ok Ciao Forse da qua Si vede meglio Aspetta Sarebbe bello Far volare il drone Su quelle nuvole Così Quando c'è Quel sistema Così Wow Guarda che spettacolo Bello Bello Che spettacolone Il nuvolone Sto cercando Sto cercando Di iniziare a fare Questo corso Per diventare Per prendere brevetto Di pilota Per i droni Perché Un paio di cosine Sto pensando Mi sono rote un po' le palle Ragazzi Mi sono rote un po' le palle Della marina Non della marina Della compagnia Che gestisce la marina Qui mi sono rote un po' le palle Bisogna un po' cambiare Diamo una botta di vita C'è vento anche C'è vento Sì Ciao Finalmente Mi è arrivata una nuova carta Carta di credito E quindi posso usare Debit card Quindi Un bantmatt Una carta di credito Finalmente Quindi Sono andato Attivare la carta Quindi devi soltanto Dare uno sportello Etm Prendere i 20 dollari Quindi la carta è attivata Vediamo cosa stanno facendo Il bastardello Il bastardo Ciao Scopo In dottore Dottie Dad The devil The devil The devil The devil What are you doing? Eting with You eating with what? McDonald's? Where you got McDonald's? You got the money I got the money No McDonald's No 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 ahiii, ahhh, hai il nuovo nome qual'è il nome? questo nome è Berri e questo nome è Elephant e che è quello? Elephant chocolate milk chi ha fatto il Mcdonalds per te!? in questa famiglia non deve entrare Mcdonalds Questa è una nuova bench che Nicola abbiamo montato, non l'avete ancora vista finita? E quindi questa è la bench, come ti dicono qua in America, la bench. McDonald's, McDonald's. E la mia giornata inizia da qui, la mia giornata inizia da qui. Cosa stai pensando? Cosa stai? Bene. Siamo avvenuti un award tomorrow. Quindi l'Elena e Emilia hanno vinto un premio per il migliore studentesse del mese alla loro scuola. Quindi, domani mattina andiamo e facciamo la prima azione. Dove va a essere una sorpresa, purtroppo non è più una sorpresa perché gliel'hanno detto. E sicuramente faremo un filmato, quindi siamo contenti e proud, fieri del nostro bambino. Mamma, are you proud of your kids? So proud of them. E sei sempre in Italia? No, I don't know anything in Italia. Sono orgogliosa. Wait till tomorrow. Wait for my hair and make-up tomorrow. D-D-E-F-T-F-I-D-K-L-N-M. No pasta yucky. Do not say that. Non dire che la pasta è buona. Pasta yucky. Do not say that. Do not say that. Do not say that. Pasta yucky. No, don't say that. What? I don't like pasta. I don't like pasta. Tu non ti piace la pasta? No. I don't like it. I like pasta. Why you don't like pasta? That's grossy. I don't like pasta. Sai che non si dice a un italiano che non gli piace la pasta? No. That's the same thing. I don't like pasta. Tu fai arrest. No. Non sei perché. Tu fai arrest. Tu fai arrest. Dadi! Dadi! Do not. You are going to jail for 2 hours. Daddy, daddy! And you, too. You got to go to jail. You have been jail for 2 days. Nicola si sta arrabbiando perchè non parla italiano con le bambine quindi da ora in poi da questo momento ragazzi parlerò solamente italiano con Lela e Emilia e Nicole la sottoscritta ok? ok parliamo solo italiano Dora nooo! that's Chinese that's a Chinese no Italian only oh that's Italian Capaishi? capisci? capisci? si si ti dice si capisci? no capisci? si sei si come fanno a salire queste due da qua? capisci ma questa come scaletta mostri si si ok quando dico capisci tu dici si ok capisci? wow si wow wow bunny I see the bunny where is the bunny? it's right far away here I mean I only speak Italian with you come si dice bunny in italiano? si dice coniglio dici coniglio sei coniglio ok poof ok poof no sei coniglio coniglio sei coniglio 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 si ciao daddy ciao daddy ciao mamma ciao mamma come stai? come stai? io bene io bene io bene e tu? e tu? grazie 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 prego prego me 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 ok 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 poof say ciao nico ok 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 poof say ciao nico ok 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 poof 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 si ok ciao nico ok 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 poof 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 si ciao nico ok ok poof 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 ok wow che si serata ragazzi si serata è stata una serata incredibile le bambine non volevano dormire iuuuuh io se sera vi saluto sono stanchissimo devo andare a dormire veramente stanchissimo ma volevo prendere l'occasione di ringraziarvi per tutti i bellissimi commenti che state lasciando messaggi e veramente un grandissimo supporto grazie mille mi fa piacere che vi state divertendo guardare i miei video comunque mi state seguendo appassionatamente e quindi un mega abbraccio un mega bacio gigante a tutti quanti e noi ci vediamo alla prossima vattene americano BOOM a tutti i i a tutti i Grazie a tutti.